Bentornati ragazzi Io sono Fablininker Oggi siamo su PES19 Per il campionato master Con il nostro grandissimo Torino Allora andiamo ad avanzare Nel calendario E Vediamo dove arriviamo La prossima partita contro il Sassuolo Partita che sarà abbastanza impegnativa Ma Confido nella nostra Grande squadra che sta rivelando Tanta roba Allora andiamo un po' cosa fare Fumasera automatica Ok Vibala, Dembélé Alex Berenguer, Baselli Soriano, Rincon Va benissimo, giochiamocela così Andiamo in calcio all'inizio E vediamo un po' cosa succede Cosa riusciremo a fare Obiettivo principale ovviamente Come sempre la vittoria Non so neanche più a spiegarlo E' da un po' che non gioco A PES Da qualche giorno Quindi Spero di riprenderci subito la mano In man che non si dica Anche se non sarà Facile per niente Andiamo a saltare queste cose qui Inutili Queste entrate Dai Ci siamo eh Su ragazzi Bravi Con calma No No Rincon Non puoi farmi queste cose però Bravo Baselli Intercetta molto bene Dibala Soriano Dembélé Dibala Dibala Baselli Per Enger Per Ansaldi Ansaldi Soriano Dembélé Dembélé No peccato Bravissimo Ancora Soriano Baselli Rincon No 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 Bravo Berenguer Ansaldi Per Rincon Bravi ragazzi Con calma Con calma No parata di Pegolo Soriano ce l'aveva provato Da distanza buona Buona perché Si poteva fare Bravo Berenguer Che intercetta Stiamo attenti Se suolo non è una squadra scarsa No ha fatto fallo Ah per noi Ok Fallo per noi Fallo su Ansaldi Quindi Ansaldi Perché? Perché lui? Ma chi ti ha detto? Mamma mia Povero me Berenguer Dibala Mamma mia Si è forte Dibala 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 No Ma che mostro è Dibala? Ma che mostro è sto gioco? Tanta roba Nicolás È tua Bravo Nicolás No Soriano No Soriano Passaggio sulla destra Berenguer Baselli Eh vabbè ho sbagliato di qua No No Non ci credo Babacar Si segna Un gol abbastanza Un brutto Perché dai Nicolás non copre bene Portiere si poteva l'altra parte Eh niente 1-0 per il Sassuolo Partita che stavano dominando In tutti i sensi 1-0 Ci hanno purgato subito ragazzi Baselli Che gol di Baselli Che gol di Baselli Mamma mia Ma che gol ha fatto Che gol ha fatto Baselli ragazzi Baselli 1-1 Ma che gol ha fatto Baselli Che gol Mamma mia Posso rivederlo Posso rivederlo Di pala di tacco Vabbè Facciamo stare Baselli se lo scatta benissimo Mamma mia Bello 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 1-1 Si riapre subito la partita Giustamente Perché non ci meritiamo Alla sconfitta Quello sicuramente no E' di nuovo pareggio Dovrà lavorare di più sulla concentrazione Bravo Baselli Izzo Baselli Baselli Ancora lui Di bala Berengher Ansaldi Bravo Baselli Soriano Di bala E' questo fallo però Oh raga Baselli Ancora lui Oggi Baselli In grande scopero In grande forma Spazza via Senza pensarci due volte Bravissimo Gomez Gomez Dembele L'hai visto Nooo Era bellissimo il cross Berengher Eh non ci arriva Ma fai battere la rimessa E' ero in avanti Vabbè Allora Stiamo andando molto bene Io Che è che mi sta Un soriano Non mi sta piacendo più di tanto Ti ho un mate Questo ha permesso loro di pareggiare Ehm Invece Berengher Possiamo mettere Ehm Cordoba E niente Direi che per il momento Posto così A posto così Poi posso far cambieremo anche Dembele che non è che mi stia Piacendo più di tanto oggi Sinceramente Sto facendo Una brutta prestazione Bravo Di Bala Bravissimo Di Bala Baselli Cordoba No cos'è Cos'è Cordoba No Bravo Izzo Bravo Izzo Eh vabbè Non potevano che fare Nel 3 di fila Ai 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 Cos'è successo? Ha simulato Ma sul serio? E' caduto in modo Troppo innaturale Non ci credo No vabbè Ci sono anche le simulazioni In questo gioco Sul serio? No vabbè Io Mi svengo Dall'emozione Che è sta roba Non ci credo Sto facendo il rigore Netto Si è simulato Cordoba dove vai Cordoba Vabbè Cordoba va via Dai ragazzi su Lo possiamo fare Armandino Izzo No ma no Cavolo No Dembélé Gomez Eh vabbè No Non stiamo più Giocando bene Ma ci manca qualcosa Bravo Izzo Gomez Di Bala Rincon Rincon Baselli L'hai visto? No Nostra Però è nostro Però è nostro Calma Allora Qualcuno che si muova Magari Grazie Per provare a mischierare le carte Mete Per chi Vabbè Ok No Non la sta facendo No Nicolás Nicolás mio ti prego Bravo Nicolás Armando dai Su Ansaldi Cordoba Baselli Ti parano Questo è fallo Questo è fallo Facciamo qualche cambio ragazzi Anzi uno Perché Solo uno Allora Caramò Un po' di Dembélé Assolutamente Che oggi non mi ha Per niente Non mi ha Non mi è piaciuto Dembélé Oggi Per niente Bravo Armandino Si riparte Baselli Metti la gambina Eh vabbè E' il tempo che sta per scadere Babacar Allarga il gioco sulle fasce E trova bene il compagno Ci prova No Tira su Non c'è nessuno Dove è la gente? Oh oh Con calma Con calma Con calma Non fare Facciamo cazzate Ragazzi Oh ma ce la facciamo Baselli Baselli Porca boia Ti ammazzo No Mamma mia Che si è mangiato questo Porca Ma che si è mangiato C'aveva fame Vabbè Meglio per noi Ibala Salta molto bene Ok 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 Nostra Nostra Dai Ragazzi Eh vabbè Si Ok Niente 1 a 1 1 a 1 Che non Non ci fa Né piacere Né Né tristezza Però È un buon risultato È un buon risultato Non mi sto lamentando Per niente Ehm Nero in campo Di Bala Come sempre Va bene Ok È una squadra comunque molto giovane Che deve crescere Quindi Va benissimo Anche perché siamo al settimo posto 7 punti Primo posto è 12 Quindi non è che sia così lontano Quindi va bene così Caramo sta migliorando parecchio Eh Pudenza di rinompente È 85 Pudenza di tiro è 77 Passaggio alla strada è 70 È pochissimo Baselli 79 Bene Caramo ha poteneggiato L'allenamento abilità Rimessa lunga Perfetto I miei giocatori preferiti Caramo ha fatto un'ottima impressione E' ora di restare I miei giocatori preferiti Sono molti giocatori che dovrei allenare Ma questo è il posto per te Che consiglio Dove restare Chi metto Quante ne posso mettere Uno Solo uno Eh io Mi tenere di bala Però secondo me Non può crescere più Tanto di bala Tanto di bala c'ho Sì È inferito Alla fine dei conti Vabbè Andiamo avanti va Sì Lasciamo di bala Tra i preferiti Torino Roma Questa Questa è bella È bella da giocare Proprio Che è successo Che è successo Sì ciao di bala Ciao Perché poi il numero 20 non lo so Non è per niente lui comunque ragazzi Vabbè ok Gli sviluppo i fatturi Va bene Ok Offerta allenatore Nessuna offerta Sono molto ricercato Sono molto ricercato Comunque Vabbè che poi ho iniziato Va bene Andiamo a giocare contro la Roma E vediamo un po' Chi mettere Ecco Ecco Magari così va meglio Non sono stanchissimi Caramon In grandissima forma Io lo mettere qua Mette pure In grandissima forma Baselli è un po' Mmm Però lasciamolo va Andiamo a caccia all'inizio Oggi Titolare per Caramon Sperando che non mi deluda Ma dubito È un grandissimo giocatore questo Che nel futuro diventerà una bestia Secondo me Davvero una bestia Cioè Mi aspetto tante cose da lui Davvero tante Partita contro la Roma Che Mi fa paura Mi fa paura Perché non sarà per niente facile Però noi Siamo qui per provarci Mette Però Ti ha dotato un po' di Di fiducia Ma Se c'è così Proprio la fiducia Se ne va Se ne va Allora Bravo Caramon Dai Di bala Niente Dorme anche lui E se dorme lui Si ha messi parecchio Male Bravo Soriano Per chi Secondo te Quale giocatore Potrebbe rivelarsi Come se se è interrotta Che se ne frega Credo che c'è come C'è un'offline Che mi frega me Bravo Gomez Gomez Bravi ragazzi Uno due Su la fascia Bella palla per Di Bala Di Bala per Gomez No Perché non me l'ha passata subito Che avevo premuto il tasto io Non è giusto Non è giusto Non è giusto Di Bala Per Caramon No Cosa fa il portiere Ragazzi cosa fa il portiere Vabbè Baselli E se baselli L'avevo cavato Non l'avevo cavato Baselli alla fine Vero Mete è stata a far gol Attenzione C'è stato molto vicino Veramente stavolta Infatti Ha fatto un ottimo Scelta Secondo me Poi giovane Mete mi ispira tanto Per entrare forte Baselli Stop Imperfetto Baselli Ancora lui Di Bala Di Bala Oggi dormi Nessuna delle due squadre Ad essere riuscita super Bravo Nicolas Caramon Ancora Caramon Caramon Bellissima palla di Bala Non ci arriva Di Bala non ci arriva Bravo Nicolas Questo qui ci va Sempre in continuazione Bravo Nicolas Bravo Caramon Nicolas per Caramon Caramon Berenguer Berenguer Che gol ha fatto Che gol ha fatto Berenguer ragazzi Mamma mia Mamma mia Bravo Caramon Ha fatto un assist perfetto ragazzi Guarda che assist di Caramon E Berenguer La cosa Perfetta E siamo da zero Per noi Si comincia dal 1 a 0 Ottimo ragazzi Ottimo Soriano Bravissimo Di Bala Berenguer Berenguer Per Caramon 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 Mi ha dato fiducia E segna 2 a 0 Assist e gol Caramon Fenomeno Caramon Fenomeno Ma anche Berenguer Cosa ha fatto ragazzi Mamma mia Come gira Sa squadra Come gira Sa squadra Sono fiero La partita è sicuramente un padrone adesso E' chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche Vai Berenguer Vai Berenguer No No Ma cosa fanno questi? Ma che cavolo fate? Dai se l'ha arrivato un gol e l'ha regalato Mate è qua fatto da cappellata Potere para Arriva mate Cosa fai? Cosa fai mate? Cosa fai mate? Cosa ti metti in mezzo? Che manco t'ho chiamato io San Fallaccio Eh questo è già giallo eh Ok Izzo Ok si finisce il primo tempo Finisce il primo tempo Vi andrei avanti così Andiamo subito al secondo tempo Vedo che Abbiamo abbastanza carichi Non cambiere nessuno Un momento Bravo mate Rifarti di tante cose No non era mate Era Nicola su pare O Gomez Oddio Ibala Soriano 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 No Baselli No Mi fidavo di te No Si vabbè ma dai ma dai Dipesa che si apre in due Vada qua Nicola che cavolo fai Nicola Santo 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 Facciamo qualche cambio va Porta a casa la terza Eh di bene Per caramò Dai Ehm Rincon Permete Che non mi sta facendo Ehm Basta Dove non è che abbiamo tante alternative Dai su Dai su Dai su Dai di vale dai su Bravo di vale con il fallo Importantissimo Ancora ancora pastore Questa è già rosso ragazzi Dai però che porcata è Questa è già fuori eh Di scontriamento che fa così Rincon Niente Dai voglio saltare questa scena Posso? Non si può fare un discorso assoluto Ma considerando l'abilità di questa squadra Cioè l'ando a zero Ci siamo fatti Recuperare come Dei coglioni Tanto cielo Era un problema Recuperare Grazie soprattutto L'intelligenza Tattica Del proprio allonato Beh di sicuro Non ha avuto paura di osare Di correre rischi Dembélé Dembélé Dibala Rincon Ansoriano Dibala Per Gomez Che azione Che azione Peccato Non si è concretizzata Meno calcio d'angolo Nicolás Meno salta Nicolás Perché non salti? Meno calcio d'angolo Ma non la Prova a giocarla In profondità Dembélé Dembélé Fai qualcosa Santo cielo Ma è fanno Questo è fallo Non ha dubbio L'arbitro Dei rossi Cerca spazio Perotti Saldi Oh Berengher va Ci va Con quello che ci vada L'incon Dembélé Dai Si riparte Dembélé Niente Dembélé Niente Devono trovare il modo Di concretizzare i loro sporti Oggi mi sta facendo più di tanto Anche nella scorsa partita Nicolás Di Bala Soriano Soriano Nicolás No perché Perché Così forte Che potete Di fatto di farlo piano Bravo Il tempo scorre Inesorabile C'è caso Bala Fanno si di Bala Dai Non può stiali Non sa Di Baselli Berengher Baselli Deviata Vero No Porca boia Ci ho provato In cosissima miera Ma è deviata Impossibile Che tiro brutto Che tiro brutto 2 a 2 Contro la Roma Perché adesso finisce La partita Diciamo che ci può stare Se si guarda in maniera Oggettiva Ci può stare Se si guarda in maniera Di come si era messa La partita È da bestemmia Questo risultato È da bestemmia Ragazzi Perché Cioè Lo 0 Andarsi a giocare così È veramente Da suicidio No Non va bene Non va assolutamente bene Comunque Rimaniamo al settimo posto Con 8 punti Su quante giornate Manco Te lo dice Beh Comunque 5 partite Le ho contate io Che non è male Allora 3 partite L'ha fatta in sto mese Una vittoria 2 pareggi 0 sconfitte Che già è buono Che già è buono 2 gol di Baselli 1-1 di Berengher Assist 1-1-1 Il miglior in campo È Baselli Berengher Di Bala Aria di copropalla Meno male Tutto lì Lì c'è meno male Anche quando succedono le cose Più che altro Succede tutto A trentunesimo A quarantacinquesimo Da quello che vedo Dribbing Riusciti Baselli A primo posto Soriano Secondo On di Bala Passaggi Soriano È Il migliore Ricevuti Baselli Migliore Tiro Baselli Migliore Contasteri In culo Migliore Riusciti Ancora Nicolas Migliore Comunque Abbiamo capito Chi bene o male È migliore Baselli Di Bala E quella gente lì La mia squadra è un mese Non c'è nessuno Dei nostri Non c'è nessuno Dei nostri Ci fa molto contenta Questa cosa Molto contenti Caramo Sto ancora migliorando Mamma mia Buono Buono Caramo Dai Continua così Diventerai Un bomber Allora Parma Torino Che andremo a fare Nel prossimo episodio Stiamo aumentando i soldi Anche Perfetto Va sempre bene E niente ragazzi Direi che per oggi Può essere tutto Episodio abbastanza Interdetto Tra il positivo E il negativo Però Comunque Due risultati Che ci possono stare Per essere il primo anno Col Torino Ragazzi Vi ringrazio E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ragazzi Grazie a tutti